Buongiorno ragazze, buon lunedì! Eccoci con il nostro appuntamento del lunedì alle 2 e oggi facciamo un video veramente molto molto tranquillo molto chiacchiera avevo proprio un sacco di voglia di sedermi raccontarvi un po' le ultime novità quindi non ci sarà un tema specifico se non quello delle novità in atto sul canale, sul blog e anche un po' più in generale nella mia vita Bene ragazzi, allora ormai penso che tutte abbiate notato questa cosa ossia che lunedì alle 2 è diventato un po' in qualche modo l'appuntamento settimanale del nuovo caricamento appunto del video sul mio canale e detto questo adesso che ho finito l'università perciò se qualcuno di voi non lo sa perché è nuova lascio qui il video a dicembre, a fine dicembre mi sono laureata finalmente ho chiuso questo capitolo della mia vita e quindi a gennaio se ne è aperto un altro ed è una cosa che per certi versi mi ha fatto molto molto felice perché essere riuscita a raggiungere un traguardo per me è stata una cosa molto bella mi ha diciamo in qualche modo dato tanta soddisfazione d'altra parte però quando poi si arriva ad aver concluso il percorso di studi bisogna un attimo decidere che cosa si farà della propria vita e non è propriamente facile o perlomeno per me non è non sta essendo facile nel senso due sono le strade quando si finisce una laurea si può fare un master si può continuare con la magistrale si può decidere di continuare con il percorso di studi oppure si deve entrare nel mondo lavorativo perché due sono le cose ragazze cioè stare a casa a girarsi i pollici prima di tutto il soldi non piovono dal cielo per mantenersi in secondo luogo anche proprio per responsabilizzarsi per affrontare un percorso di maturazione di crescita personale è necessario avere qualcosa da fare solo che ovviamente non è propriamente facile trovare il lavoro dei propri sogni soprattutto al giorno d'oggi io credo che si possa trovare da lavorare ovviamente credo anche che sia difficile trovare propriamente quello per cui si è studiato bisogna un po' contentarsi come in tutte le cose da qualche parte si deve iniziare quindi nel frattempo intanto che trovo cerco e trovo il lavoro dei miei sogni che sarebbe quello di per quanto riguarda i miei studi quello di girare un po' il mondo comunque di utilizzare le lingue a livello lavorativo quindi sia letterario che non faccio un po' di lavoretti poi là magari qualche ripetizione qualche commissione insomma faccio qualcosa che mi tiene impegnata e mi hanno chiamato per diversi lavori occasionali e mi sto dedicando il più possibile a youtube e al blog perché è una cosa che avevo ho iniziato circa un anno fa il youtube un po' meno poi ho accantonato per un pochino per gli studi e così ho deciso di dare una chance a questa cosa e di provarci di riuscire almeno a essere costante in quello che faccio per creare dei contenuti di un certo tipo una continuità per voi un certo tipo di rapporto affinché entrambi potessimo conoscerci meglio quindi ho visto che come sto operando adesso cioè casinisticamente parlando non funziona cioè non funziona nel senso voi siete tantissime siete dolcissime mi riempite di affetto e anche magari le case editrici mi chiedono di recensire libri piuttosto che sul blog altre aziende mi contattano per altri motivi ma se non c'è un minimo di organizzazione in tutto questo finisce che uno diventa scemo come sta diventando scemo alla sottoscritta perciò ho deciso a un certo momento ho detto ok Ilaria va bene prima di finire in depressione che veramente c'è vicina perché sapete quando avete tutte quelle cose da fare avete un milione di cose da fare vorreste fare un sacco di cose vorreste rivoluzionare la vostra vita avete le cose a portata di mano eppure non lo fate oppure non siete felici perché non state facendo come vorreste e questa secondo me è una cosa molto molto comune perché quando il problema tra virgolette laurea e università è stato risolto io mi sono ritrovata nuda tra virgolette cioè adesso cosa faccio adesso qual è il prossimo step qual è il prossimo obiettivo che mi metto da raggiungere e quindi questo è anche un po' un video chiacchiera con voi perché è una rubrica che sicuramente andremo ad aprire e poi dopo vi spiego come preparatevi che questo sarà un video super mega iper lungo preparatevi io vi avevo avvertito ma ho voglia di chiacchierare strano vedete voi i video di live di solito sono così corti così brevi e concisi quindi ho proprio intenso neanche di aprire proprio una rubrica di chiacchiera su affrontiamo veramente quali sono le problematiche le cose che ci affliggono perché voi mi vedete sorridenti felici davanti alla videocamera ma vi giuro ragazzi che anche io passo i miei momenti assolutamente no ma proprio no non ci siamo e mi piacerebbe ovviamente nel rispetto anche un po' della mia privacy cioè non è che penso che sia bello spiattellare tutti i fatti miei dall'alazeta su youtube è una cosa che io non condivido perché youtube è molto bello per condividere però ci sono delle cose così personali che preferisco che rimangano tali ma questo ciò non toglie come il video delle lauree del fatto che non mi sono laureata in tempo e altre difficoltà simili che sto incontrando nel corso della mia vita non c'è niente di male perché succede a tutti quanti io sono stufa marcia che le persone facciano finta di niente dicono che tutto bello tutto figo tutto no non è vero non è così cioè anche alle persone come me che voi magari vedete come qualcosa di diverso da voi perché sono dall'altra parte della videocamera succedono anche a me soprattutto a me cioè ho di quelle fisse ragazze che ne parleremo ne parleremo tornando un attimo a noi parliamo delle novità sul canale non è che ci sarà una vera e propria novità o meglio ci sarà un'organizzazione differente io non smetterò mai di fare recensioni di libri di parlare di libri proprio una cosa che non smetterò mai di fare perché è il motivo principale per cui ho aperto un canale perché la lettura mi ha salvato la vita a un certo punto della mia vita scusate la ripetizione ed è una cosa secondo me così bella che deve essere riscoperta io lo so che i video di lettura cioè voglio dire le visualizzazioni del mio canale cioè non serve che io vi dica dati confidenziali le visualizzazioni del mio canale parlano da sole ok i video di libri non hanno lo stesso riscontro che hanno i video beauty i video tag i video un po' più tranquilli non dico frivoli perché io non penso che ci siano video frivoli non mi piace usare queste accezioni negative sicuramente fare un video shopping un video beauty un video così piace di più va bene me la sono messa via ho capito che vi piace anche quello e sono felice di dare spazio anche a queste cose però non smetterò mai di fare i video di libri cioè proprio ve lo ridico mettetevela via che i video di libri vi entreranno così tanto nel cervello che inizierei a leggere se ancora non avete deciso di iniziare perciò arrivando a questo vi dico che ho in mente un mezzo calendario settimanale proprio per riuscire ad organizzarmi quindi lunedì alle 2 l'appuntamento rimane però lunedì alle 2 sarà il video un po' più lifestyle ok nel banner c'è scritto books and lifestyle quindi lunedì troveremo video più chiacchiera magari un video shopping magari che ne so l'home tour no l'home tour no perché non non vivo da sola non mi piace fare il video della casa vi faccio il room tour il tour della mia libreria no la libreria la piccoli libri scusate che ne so come fare questo parliamo di problemi di studio il metodo di studio tutta la mirada di video che mi avete chiesto la picchiamo tutta il lunedì ok sappiate che non troverete sul mio canale video beauty tipo io che mi trucco o io che mi faccio le nail art non è proprio nel mio stile sono cose che io faccio su di me io mi trucco io mi dipingo le unghie mi faccio le trecce però non è quello che io voglio fare ci sono tantissime ragazze molto molto brave che lo fanno su youtube e che proprio sono portate per queste cose io sono portata per chiacchierare con voi e per affrontare quelle cose che mi stanno a cuore quindi quel video quel tipo di video specifico quindi nel make up e nel cose del genere no magari qualcosa dei capelli ve lo ficco perché me ne avete chiesto tantissime volte di farlo però ecco quindi il lunedì teniamo la rubrica lifestyle per quanto riguarda l'altro giorno durante la settimana ossia il giovedì il giovedì alle 2 sempre teniamo sempre le 2 come orario rubrica libri quindi potrebbe essere che una recensione di un libro un giveaway di un libro un tag dei libri le letture di quel mese i libri più belli di sempre il video della mia libreria le mie copertine qualsiasi cosa che abbia che contenga al suo interno appunto questa cosa dei libri o magari libro versus film queste cose qua le troverete tutte il giovedì alle 2 così perlomeno dividiamo anche psicologicamente nella mia testa un attimo diviso le due tematiche principali del mio canale e anche voi sapete dove dove quando dove no perché sempre sul mio canale quando trovare che cosa vi piace di più ma io vi invito però ragazze e non perché sono io ma vi invito veramente a guardare di più i miei video dei libri veramente ma fatelo per me perché ci tengo ma fatelo anche per voi provate a riscoprire il piacere di leggere perché ovvio io sono più improntata su un genere particolare ok quindi magari io comunque leggo più che altro romanzi poi che sono storici che sono fantasy che sono young adults new adults quelle cose lì però quello è ok ma riscoprire la passione per la lettura è molto bello perché una volta che voi la riscoprite troverete da sole il vostro genere non è che dovete leggere per forza i libri che consiglia l'aria capite però mi raccomando cercate di dare un pochino più spazio alla lettura perché so che magari non vi piace perché vi ricorda la scuola vi ricorda l'università e quant'altro ma leggere è veramente vivere tante vite parallele rispetto a quella che si vive quindi questo poi è una cosa che amplierò nel video di perché ho iniziato a leggere e quindi questo è un po' quello che succederà sul canale e a questo proposito nei commenti vi chiedo la cortesia di farmi sapere per entrambe queste rubriche quali sono i video che volete vedere prima quindi per quanto riguarda il lifestyle se volete il room tour se volete come studiare se volete che ne so quello che volete qui oppure come non lo so ditemi voi quello che vi piace di più e per quanto riguarda i libri il tour della mia libreria che il rider acquistare dove compri i libri i generi dei libri spiegaci che ne so qualsiasi cosa fatemelo sapere nei commenti quindi queste sono un po' le novità per quanto riguarda youtube quindi niente di che però ci tenevo a farvelo sapere così l'appuntamento è bello definito l'unica eccezione che potrebbe esserci sul canale è riguardo le nuove uscite se per esempio un libro esce in un giorno settimanale che non è il giovedì o il lunedì magari sposto il video del giovedì o al mercoledì o al venerdì il video del lunedì rimane comunque il video del lunedì però ecco tenderò sempre a tenere anche le recensioni seppur fossero inate prima sempre il giovedì passiamo ora al blog per quanto riguarda le blog ci sono un po' di novità un po' di novità rispetto a youtube in realtà ossia mi sono resa conto che da sola a leggere tutti i libri che dovevo leggere o che devo leggere perché continuano ad accumularsi non ce la faccio cioè non ci riesco una sono registrare i video su youtube ottenere il blog le collaborazioni fai le fotografie lavoricchia quando c'è da lavoricchiare fai le tue cose comunque a livello proprio anche in casa e così non ci riesco cioè diventa che non più un piacere alla lettura più che altro un'angoscia devo leggere il libro per recensirlo così quasi per gioco ho aperto le iscrizioni chiamiamole così a lavorare anche questo tra virgolette perché non è un lavoro ok a collaborare esatto forse collaborare più giusto con il mio blog se c'era qualcuno appunto che avesse piacere a scrivere ogni tanto un articolo sul mio blog e inaspettatamente mi sono arrivate un sacco di mail e in particolar modo alla fine dopo insomma in base anche a quello che più necessitava il blog o comunque la linea del blog sono state scelte tre ragazze che ora a tutti gli effetti collaborano con me hanno appena iniziato quindi insomma spero che questa cosa continui che sia positiva per entrambe per entrambe le parti scusatemi per entrambe le parti e brevemente anche sul blog vi voglio dire come sarà la settimana del blog Giulia è stata la prima new entry del blog è una ragazza molto molto dolce molto giovane ha 17 anni legge un sacco si definisce un topo da biblioteca si è sempre sentita anche lei in quest'altro mondo parallelo dei libri ama i fantasy ama i libri che piacciono a noi e a me in particolare infatti io ne ho 24 lei ne ho 17 leggiamo fondamentalmente gli stessi libri e e quindi lei in base anche un po' alle letture e alle retrate che ho oppure anche semplicemente al suo gusto personale a quei libri che io non riesco a recensirvi su youtube perché fondamentalmente voi vedete che io su youtube apriamo la parentesi io su youtube non faccio recensioni negative ok io non lo farò mai di scrivere di fare un video dove le dico dietro dall'inizio alla fine di un libro ma secondo voi ma adesso ragioniamo un attimo ma che senso ha perdere 4 ore del mio tempo tra prepararmi l'inquadratura e le luci e mi trucco e registro e monto e ritaglio e rimetto ciò che 4 ore 4 ore solo per questa parte poi c'è tutta la parte di post produzione per parlarvi male di un libro ma che se cioè per me è una cosa insensata io tutto il tempo che ho a disposizione lo uso per far qualcosa di positivo cioè per farvi conoscere bei libri non per declassare o per parlare male di un libro perché magari quel libro non mi è piaciuto perché non era il periodo giusto non mi è piaciuto perché non è il mio genere invece mi è capitato sotto mano non mi è piaciuto perché sono sensibile quindi queste cose cioè mille motivi ma perché io devo perdere questo tempo per parlare male di un libro non è la mia filosofia di pensiero questo però cosa implica implica che io riesco a leggere un totale di libri io di solito riesco a leggere per quelle che me lo domandano circa 5-6 libri al mese e li riesco a leggere e farvi le recessioni di quelli più belli oppure delle nuove uscite ma rimangono tanti libri indietro che sono belli lo stesso ma se dovessi veramente recensirvi tutti i libri super belli finirei la vita prossima quindi Giulia che è stata la prima appunto mi sta aiutando un po' con le letture passate con alcune letture che a lei sono rimaste nel cuore e lei il suo giorno il giorno di Giulia è il martedì perciò Giulia sul blog il martedì caricherà una recensione di un libro in base insomma alla scaletta che poi lei preferisce perché le ragazze scrivono quando hanno tempo quando hanno voglia però hanno così tanto da dire che ormai praticamente lei si è accalappiata il martedì per quanto riguarda Giorgia invece Giorgia è sempre molto giovane come Giulia ed ha anche le 17 anni poi comunque se andate sul mio blog trovate anzi vi lascio qui tre articoli presentazioni delle tre ragazze anche lei mi aiuterà alla stessa maniera anche lei per certe cose forse sono molto simili come i gusti però spazia Giorgia in un modo Giulia in un altro quindi riescono a beccare degli stili che magari io non riuscirei a beccare e anche lei invece il soggiorno sarà il mercoledì perché anche lei ha un sacco di cose da raccontarvi non vede loro sono tutte entusiasta io sono più entusiasta di loro quindi sono molto felice di questo concludiamo poi in realtà Giorgia è stata l'ultima è stata la terza la seconda che mi ha contattato è Gina che praticamente vedete le tre G cioè le tre G ragazzi adesso dobbiamo inventarci un nome perché appunto tutte e tre con la G e la seconda lettera la I che sarebbe la mia di Laria quindi è stata anche una coincidenza molto carina per quanto riguarda Gina invece lei è una scrittrice ed è anche un po' più grandicella rispetto alle altre due ragazze anche a qualche anno anche più di me e lei invece va matta per i film i telefilm e tutte queste cose oltre scusatemi oltre alla scrittura e alla lettura lei ama i film i telefilm comparazione tra film e telefilm va matta per queste cose ogni fine settimana va a vedere un film quindi per lei sarà aperta una nuova rubrica sul blog ossia tv series movies ok quindi lei ogni settimana magari vi parlerà di quello che ha visto al cinema o di quello che pensa di quella cosa e perciò anche sul blog vedete sempre più contenuti possibili rimangono quindi gli altri giorni disponibili lunedì il giovedì che sono i giorni che io carico su youtube il sabato e la domenica che se qualcuno ogni tanto ha voglia di farvi qualche foto per un outfit io sono sempre ben felice di farvi conoscere le mie idee strampalate low cost perché vi dico tutto questo? perché mi piace condividere con voi quello che nella mia testa sta passando in questo periodo è quello che mi piacerebbe un sacco fare e in quest'anno vorrei provare a mettermi in gioco in tutto e per tutto vorrei provare anche a fare un viaggetto che io e il mio ragazzo e un sacco che stiamo programmando ci piacerebbe andare in America non ci siamo mai andati spero che io ho viva cose dell'aereo e perciò avevo proprio voglia di condividere tutte queste cose che sono in atto nella mia vita nell'ambito del vlog di youtube nell'ambito di fissazioni paranoie mentali che mi è proprio ideotico parlare con voi e secondo me è anche proprio ideotico capire che non siamo mai soli né da una parte né dall'altra spero di aver detto tutto in realtà penso di sì non ho molte altre cose da dirvi queste erano un pochino tutte le novità che andremo a vedere ovviamente tenete conto che questa è l'idea di base cioè questo è come dovrebbe essere l'organizzazione ottimale non vedete più la mia mano e poi come sarà lo scopriremo solo vivendo per citare giustamente una frase molto famosa è una canzone altrettanto famosa e basta questo fatemi sapere sempre con un commento appunto che cosa ne pensate di queste novità andate a vedere i profili di queste tre ragazze che si sono appassionate a questa cosa che mi seguivano cioè comunque tutte e tre mi seguivano ecco perché mi hanno scritto mi seguivano e avevano tantissima voglia di dire la loro e fatemi sapere che cosa vi piacerebbe vedere nelle due rubriche che vi dicevo prima io sono certa che c'era qualcos'altro che dovevo dirvi ma ovviamente mi sfugge questo vi volevo dire l'altro giorno ero a Brescia alla Brescia rossa e praticamente ci tenevo un sacco a dirvi questa cosa perché mi vergogno un po' però ve la devo dire a un certo punto ero lì con la mia amica che comincerò a fare un video con me quella che è tornata dall'America se avete visto la foto su Instagram è stata diciamo 5 anni in America poi in Messico dopo il diploma vabbè eravamo lì e a un certo punto si avvicina un ragazzino che avrà avuto forse non so un rapicino comunque e mi chiede se ero Ilaria la YouTube e io gli dico che sì sono io tipo trollare perché la freccia rossa che è un centro commerciale nell'area di storia è pieno di gente ah perché la mia amica mi ha fatto vedere un tuo video su YouTube insomma alla fine è venuto questo ragazzino con un altro ragazzino a fare le foto con me insomma sono state molto molto carine e questa cosa mi ha fatto piacere veramente tanto e prendo questo esempio perché a volte veramente abbiamo delle cose così belle nella nostra vita queste soddisfazioni e poi però dall'altra parte non so pensiamo che magari questo non va bene quell'altro non va bene così cioè a volte abbiamo preso solo le cose brutte in realtà sono certa che nella vita di ognuno di noi qualcosa di bello c'è e dovremmo imparare a dare un sacco di forza e di potenziare sempre di più quello che di bello c'è affinché quello brutto possa sembrare sempre più piccino e più distante quindi ringrazio veramente questi ragazzi che sono venuti a darmi un bacio a fare una foto con me e se state per caso guardate questo video e niente fanciulle vi aspetto tutte tutte quante nei commenti mi raccomando scambiamoci un sacco di opinioni perdonate la mia lingua di forcuta che non sa mai zitta vi mando a facciare ciao ciao